Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul mio canale di Primo Mattino, martedì 19 giugno, iniziamo subito e partiamo con un contenuto del quale vi avrei voluto parlare, ve l'ho detto, sul contenuto di ieri sera. Come finiranno quei mal di pancia? Ne parliamo immediatamente, prima però come sempre, mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, azionate la cappella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostra compagnia. Dunque, ci sono alcuni giocatori che hanno manifestato pesantemente il loro mal di pancia, chi più chi meno hanno manifestato la loro intenzione di lasciare il loro club di appartenenza e due di questi chiaramente vanno a coinvolgere la vecchia signora perché sono, sto parlando di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, laterale di destra, titolare della nazionale di Spalletti e di Riccardo Calafiori. Due giocatori che stanno, che hanno fatto una grande stagione, o meglio, Calafiori che ha fatto una grande stagione del Bologna, Di Lorenzo meno con il suo Napoli, ma che viene comunque da un periodo sicuramente dove è maturato, dove è cresciuto tanto, ritenuto fondamentale per la nazionale, sicuramente più vecchio e quindi andare a svenarsi per quelli che possono essere richieste del Napoli su un giocatore di 31 anni, ci si può ragionare. Però al di là di questo, è un dato di fatto, Di Lorenzo attraverso il proprio agente Giuffredi ha fatto sapere di voler lasciare Napoli, di ritenere concluso il suo percorso a Napoli e di sbattere pesantemente contro la volontà del club e dell'allenatore Antonio Conte. Il quale Antonio Conte, ve lo dico subito, sarei proprio curioso di sapere come sta vivendo, che periodo sta attraversando, perché è arrivato a Napoli, io credo, non consapevole di tutte le zizzagne che alleggiavano all'interno dello spogliatoio. Era consapevole della possibilità di perdere Ozymen, ma certamente anche l'uscita ultima della gente di Quiccia-Kwarazkelia che ha dichiarato che vuole lasciare il Napoli, perché tutti questi giocatori che hanno raggiunto uno status importante, avendo vinto lo scudetto, avendo fatto un'ottima stagione, non quella appena terminata, ma quella precedente, avendo assaporato il palcoscenico ad alti livelli della Champions League, beh oggi ritrovarsi in una situazione come quella che li vedrà fuori dalle coppe, Quarazkelia tra l'altro con una proposta del Paris Saint-Germain addirittura da circa 10 milioni di euro netti a stagione, lui che ne guadagna appena 1,3. Insomma, è ovvio che sono dei mal di pancia che vengono, che emergono, quando ci sono situazioni del gruppo squadra gestite sicuramente in maniera non idonea. Ora, che il capitano Giovanni Di Lorenzo voglia lasciare Napoli per una scelta personale è cosa resa pubblica, quale sia il motivo che abbia indotto il capitano a fare questa scelta non ci è dato a sapere. Sappiamo che tra le società che ovviamente fiutano la possibilità di fiondarsi sull'esterno del Napoli, c'è la Juventus per ovvie ragioni, perché il suo scopritore, chiamiamolo così, Cristiano Giuntoli che lo portò dall'Empoli al Napoli a un grande stimatore, perché Tiago Motta gradirebbe l'esterno partenopeo, perché il giocatore spinge per sposare il progetto bianconero. Ma sappiamo che quando poi c'è un contratto, ancora se non sbaglio 5 anni di contratto, gli scade nel 2029, insomma i contratti quando li firmi nessuno ti ha puntato una pistola alla tempia, per cui una valenza debbono averla. E io sono dell'idea che i calciatori, per quanto abbiano il diritto di esprimere il loro mal di pancia, i loro desideri, debbano anche rendersi conto che non possono sempre e comunque decidere loro che cosa fare. È ovvio che la sua richiesta è inequivocabile, sembra addirittura che al termine dell'europeo Giuffredi chiederà in via ufficiale tramite conferenza, comunicherà la volontà di Lorenzo di voler lasciare Napoli, ma io credo che la spaccatura tra Napoli, tra Di Lorenzo e Napoli sia troppo importante per poter pensare di ricucirla. Poi nel calcio può succedere di tutto, Conte ci ha già provato, al momento le parti sono rimaste sulle loro posizioni, Conte non vuole assolutamente privarsi di Di Lorenzo, il giocatore non vuole assolutamente rimanere a Napoli, vedremo. Certo è che come finirà questo mal di pancia non ci è dato sapere. Io però, l'ho già fatto in precedenza, lo torno a fare, è vero è un giocatore che interessa tanto la Juventus, ma credo che sia un'operazione di difficilissima conclusione, a meno che, lo ribadisco per l'ennesima volta, nell'operazione non rientri un calciatore o più calciatori di assoluto interesse dei partenopei e allora si chiuderebbe con un pari e patta, contenti tutti e Di Lorenzo potrebbe sposare il progetto bianconero. Però attenzione perché il mal di pancia di Di Lorenzo è un mal di pancia reale, un mal di pancia conclamato, ma c'è un contratto che parla chiaro. Scadenza, 30 giugno 2029, non può decidere da solo ciò che fare, la potenza da questo punto di vista, la forza da questo punto di vista ce l'ha la società. È vero che tenere un giocatore scontento è sempre un grossissimo rischio, ma i contratti, ripeto, andrebbero rispettati, fatto salvo che le parti non siano d'accordo di interromperlo e in questo momento questo accordo non c'è. Atteniamo la fine degli europei per capire attraverso la conferenza che terrà l'agente di Di Lorenzo se si troverà la quadra per una partipartita di Di Lorenzo dalla società partenopea. Ripeto, per la Juve secondo me è difficilissimo, può essere fattibile solo con l'inserimento nel contropartita gradita ad Antonio Conte. Vediamo quello che sarà. Quaraschelia, altro caso molto spinoso, certo che il Napoli dovrà proporre un ritocco abbondantissimo ed è questo il rischio che purtroppo si corre quando si vince uno scudetto con giocatori che guadagnavano un milione di euro che inevitabilmente finiscono alla ribalta, vengono accerchiati dalle richieste, gli vengono offerti contratti plurimilionari e quindi tutto può sfaldarsi ed è quello che sta succedendo all'interno spogliatore del Napoli. Veniamo a Calafiori, altro mal di pancia, qui la situazione è diversa, Calafiori è assolutamente grato al Bologna, non vuole rovinare il rapporto con Bologna, però è evidente che gradirebbe vivere l'occasione della vita perché ritiene che il treno bianconero sia la classica occasione della vita da non volersi far sfuggire. Quindi come finirà? Beh qui la situazione si complica, nel senso che prima della fine del campionato la Juventus come sapete aveva bossato un accordo con Calafiori, accordo che non ci sono problemi a mantenerlo. Su Calafiori si sono fiondate diverse squadre di Premier League tra cui ultima anche il Tottenham, ma non è la sola, ma lui posso garantirvi che a due giorni fa, a due giorni fa, quindi sono indietro di due giorni se le cose eventualmente fossero cambiate, ma due giorni fa lui ha espresso ancora una volta chiara la propria volontà di non prendere in considerazione altro che la proposta della Juventus. Quindi per Calafiori la situazione è chiarissima, lui vuole seguire Tiago Motta in bianconero, vuole la Juventus, la Juventus vuole fortissimamente Calafiori, ma la quotazione del calciatore che in origine, intorno a febbraio, quando ci sono stati i primi ammiccamenti tra il Juventus e il Bologna, si aggirava intorno ai 20-25 milioni di euro, con il Bologna che ovviamente tendeva a fare cassa quanto più possibile. Ricordo che c'è una percentuale sulla rivendita che il Bologna farà da riconoscere al Basilea intorno al 50%, e quindi è chiaro che il Bologna oggi fiuta l'affare, vuole monetizzare quanto più possibile e vorrebbe eventualmente, dovesse privarsene, cedere il calciatore in Premier League, perché da lì arriverebbero offerte molto, ma molto più importanti di quella che può permettersi la Juventus. Juventus che non intende partecipare ad Aste, che intende portare Calafiori a Torino per precisa richiesta di Cristiano Giuntoli, che è stata assolutissimamente avvallata da Tiago Motta, ma non si può spingere oltre la cifra di circa 30 milioni di euro per chiudere l'operazione, operazione nella quale chiaramente la Juve tenderebbe ad inserire giocatori che potrebbero essere ritenuti interessanti dalla società felsinia, ma la situazione qui è un po' complessa, ingarbugliata, perché l'addio di Tiago Motta dalla Bologna non è stato gradito dalla proprietà. La proprietà, pur sapendo che Tiago Motta è un professionista e quindi col contratto scaduto o in scadenza, aveva anche facoltà di scegliere liberamente dove poter andare, si è sentita un pochino abbandonata dopo averlo, sì, lui portato il Bologna in Champions League dopo, non mi ricordo quanti anni, una infinità e quindi tanto di cappello a Tiago Motta, ma si aspettava che magari Tiago Motta portasse a compimento, conducendo il Bologna, almeno per un altro anno, alla guida anche in Champions League. Così non è stato, la proprietà adesso, che ripeto è rimasta un po' delusa dal comportamento di Tiago Motta, nonostante Tiago Motta non abbia mai illuso i felsini di un possibile rinnovo che gli fu proposto in tempi non sospetti, ovviamente tenderà a far muro sulla richiesta della Juve del giocatore Riccardo Calafiori. Quindi Calafiori, che vorrebbe unirsi alla Juventus per seguire il suo allenatore Tiago Motta, ha quel mal di pancia, non tanto perché non si trova bene Bologna, ma perché vorrebbe andare e spero ci sono queste oggettive difficoltà a chiudere l'affare. Vedremo quel che sarà, perché tanto se ne riparerà chiaramente ad europeo concluso. Questi sono i mal di pancia, seguiamoli per vedere e per capire come finiranno. Intanto voi commentate e ditemi la vostra. Ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Ciao!